Un festival, soprattutto quello di Cannes, dà onestamente ciò che promette. Un incontro sulla Croisette, qualche buon film, un discreto numero di affari e qualche festa. Appunto a un ricevimento campestre, alla Napoule, abbiamo incontrato Lino Ventura e Belmondo, protagonisti di 100.000 dollari al sole. Lino Ventura è uno dei due protagonisti di 100.000 dollari al sole. Lei è italiano, vero? Sì. Di che origine? Parma. Quindi parla perfettamente l'italiano? Sì. Senta, lei non è un po' stanco di tutti questi personaggi violenti? Non ha voglia di fare un personaggio al di là della violenza, diciamo così? Ma è già un po' di tempo che non faccio dei personaggi violenti. Diciamo che faccio dei personaggi, se vuole, un po' umani, veri. E evidentemente, ogni volta che si parla di personaggi così, c'è sempre un po' di violenza, di collera, di sentimenti un po' violenti, sì, ma insomma, lei vuole dire gangster, no? Ecco. Ma è già un po' di tempo che non ho fatto un film di gangster, anzi, adesso ci ritorno con piacere perché devo fare un film con Melville che sarà una storia di gangster, ma veramente molto dura e molto difficile anche da fare. Ho cominciato col teatro, ho lavorato in teatro per otto anni, poi ho fatto delle piccole parti, delle particine nei film. Ho studiato, ho fatto box, poi sono entrato all'accademia. Buono, ma non un super campione. Tutti e due sono stati definiti eredi di Jean Gabin, in fondo è un'eredità che pesa un po' sulle spalle. Vede, io credo che Jean Gabin sia un grande attore, che ha molto talento, ma credo che ci sia stato un solo Gabin come ci sia stato un solo Gerard Philippe e non ce ne sarà un altro, cercherò di essere almeno qualcosa di diverso. Oddio, già da molti anni che si dice questo, sa? Vorrei che la gente avesse un po' più di immaginazione, io insomma non ci credo.